Io le posso ribaltare un attimo, lo dico col massimo rispetto. Io ho rappresentato per me, da Ministro dell'Ambiente, la preoccupazione invece per la linea miantifera che ci sta in quella zona. Perché quella per me, da Ministro dell'Ambiente, è una grande preoccupazione. Lei sa che questa linea ferroviaria attraversa una zona ricca di amianto che andrà inevitabilmente scavata. Si può trattare l'amianto, se solo si... Però io devo manifestare dal Ministro dell'Ambiente la mia preoccupazione. Questo è l'elemento forte sul quale mi sono mostro. Ovviamente, sull'analisi costi-benefici, quando non si parla di questione di schiettamento ambientale, è il mio stile molto misurato. Io mi mantengo nel mio terreno perché altrimenti sarei un tuttologo e non è arte mia. Non è corretto. A un costo ambientale l'abbiamo detto. Ok, però c'è anche un costo reale. Io mi domando, in proporzione, se lei dovesse immaginare, adesso ragioniamo un attimo per astratto, io poi ho una cultura scientifica, però ragioniamo un attimo per astratto, con quegli stessi denari, quanti pendolari che non usano più la macchina facendo per esempio nuove ferrovie o rafforzando quelle che ci sono o per esempio quante altre ferrovie posso mettere perché o il pendolare o il trasporto pesante possa essere soddisfatto a parità di spesa, quindi con il medesimo elemento. Questo forse, non parlo solo in quella zona, parlo in generale, ma per esempio in pianura padana che sappiamo qual è il problema della qualità dell'aria. Io direi che questo pure potrebbe essere un bel tema da affrontare.